Benvenuti al Bianco e Nero, il musical è il protagonista di questa puntata, il film che vedremo è Girandola, anno di produzione 1938, regia di Marc Hendrick, ne sono gli interpreti Ginger Rogers e Fred Astaire. Un giovane preoccupato per la salute mentale della propria ragazza la spinge ad andare dallo psicanalista. Lei va dal dottore e se ne innamora, ma lo psicanalista spingerà la ragazza verso il suo vecchio fidanzato. Una volta è riuscito nel suo intento dal bravo medico, però si scoprirà innamorato della ragazza e tornerà indietro sui suoi passi. Questo film è uno dei primi che portò la psicanalisi come tema di una pellicola ad Hollywood. Splendide, le musiche di Irving Berlin e vi segnaliamo anche che questo è il quinto e ultimo film girato dalla coppia Ginger Rogers e Fred Astaire prodotto dalla celebre casa di produzione major hollywoodiana RKO. Ma ora è venuto il momento di vedere girando l'anno di produzione 1938, regia di Marc Hendrick.